Cari amiche e cari amici, quello che è accaduto a seguito dell'arrivo in Basilicata di un gruppo di migranti del Bangladesh non deve più accadere. Questo è l'impegno che abbiamo preso tutti insieme, maggioranza e opposizione, in Consiglio regionale. E sono grato a tutte le forze politiche presenti, le quali mi hanno dato pieno mandato per chiedere al Governo Nazionale il rispetto di questa comunità. Non possiamo in alcun modo buttare via i sacrifici che abbiamo fatto durante i lunghi mesi di lockdown. Ed è per questo che appena ho saputo che il nostro sistema sanitario regionale aveva individuato negli ospiti extracomunitari dei centri di accoglienza numerosi positivi, ho ordinato con il Prefetto di Potenza e di Matera l'immediata quarantena e il divieto di allontanamento dalle strutture. Voglio essere chiaro, la Basilicata è e sarà una terra solidale ed accogliente, ma nella sicurezza, ed è mia intenzione far rispettare e proseguire su questa linea, a tutela della nostra comunità. Questo episodio arriva nel bel mezzo di una stagione turistica che pure ha iniziato a dare qualche segno di ripresa e di questo voglio rassicurare tutti quelli che mi ascoltano. La Basilicata è e rimarrà una terra sicura, covid free, come si dice in questi casi. Anzi, il mio invito è quello di venire a godere delle bellezze di questa nostra bellissima regione, dove potrete passare un periodo di meritato riposo dopo questo brutto inverno. Le nostre strutture alberghiere, i nostri centri marini e montani e il nostro settore turistico è in grado di accogliere quando vorranno venire in Basilicata in assoluta sicurezza. Ed è proprio il caso dei migranti che lo ha dimostrato. Abbiamo immediatamente individuato una falla che il sistema sanitario nazionale non era riuscito a determinare. E subito abbiamo circoscritto il focolaio. Lo abbiamo fatto ora, così come lo abbiamo fatto mentre infuriava la pandemia. Perché nella prevenzione è il vero punto di svolta nel combattere il covid. Ed è proprio per non buttare al vento i sacrifici a cui è stata sottoposta la nostra comunità, che ho chiesto al Governo nazionale, nella sua interezza, sistemi di verifica sanitaria all'ingresso dei confini nazionali. Altrimenti mi troverò costretto, nelle forme e nei modi di legge, a mettere in campo tutte le misure necessarie per la tutela della comunità lucana. Su questo c'è il pieno mandato di tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Cari amici e care amiche, ciò che è accaduto ci ha dato una certezza di un efficiente sistema sanitario che è in grado di spegnere sul nascere qualsiasi focolaio. Questo ci deve rassicurare. Ed è per questo che il mio è un invito alla tranquillità e a godere di una vacanza in totale sicurezza. Da parte del Governo regionale metteremo in campo tutti gli strumenti, non solo perché ciò non accada più, ma per garantire a tutti di vivere in serenità. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alla nostra comunità.